Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale, mi chiamo Ranno, sono di Orlando, Florida e oggi vorrei parlarvi delle scioglilingue italiane e non sono sicuro sulla pronuncia ma qualche scioglilingua qui, e proverò 33 tigri entrano a Trento tutte, 33 trotterrallando e questo è il mio preferito Un altro Dietro il palazzo c'è un povere cane pazzurato e un pezzo di pane è un povere pazzucane Sereno e seren sarà, se non sarà, seren si rasserenerà Se l'arcivescovo di Costinanopoli si disarcivescovi scoltinapolizzasse vi disarannan Molto difficile, non so Sì, questi sono qualche scioglilingua che le persone mi hanno mandato Grazie per aver guardato Se avete la domanda per me lasciate un commento qui sotto e posso rispondere ai miei video nel futuro Niente, ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao Ciao